Una delle più importanti eccellenze sanitarie molisane sullo speciale inserto del sole 24 ore dal titolo Proteggere cervello e cuore. Parliamo dell'IRCS Neuromed di Pozzilli che viene indicata come una delle strutture all'avanguardia nello studio degli ICTUS. Nella pagina dedicata all'estroc unit si spiega l'importanza di tali strutture negli interventi rapidi ed emergenziali. Sono solo 86 in tutta Italia, come si può ben vedere dalla cartina. Secondo l'esperta Maria Luisa Sacchetti l'Italia e soprattutto il Meridione avrebbe necessità per numero di abitanti di raddoppiare il numero di strocch unit. Proseguendo poi nella lettura dell'interessante inserto c'è un'intera pagina dedicata all'Istituto Neuromed con l'esplicativo titolo ICTUS cerebrale intervenire nelle prime quattro ore salva la vita. Nella prima parte dell'articolo si spiegano le statistiche che riguardano l'ICTUS ischemico e quello emorragico. In Italia l'ICTUS è la seconda causa di morte e la prima di invalidità, con un elevatissimo costo sociale. Si stima infatti che dei soggetti che sopravvivono a un ICTUS il 48% soffre di emiparesi, il 32% di depressione clinica, il 12% di afasia, il 22% non può camminare e il 24% dipende da altri nelle attività quotidiane. Oltre alla prevenzione, principale strumento per limitare l'incidenza di questa malattia, oggi esistono mezzi straordinari per limitare i danni causati da un ICTUS o addirittura per guarirne completamente. Una delle strutture all'avanguardia, sia per strumentazioni che per la presenza di studiosi della materia, che per attività complementari, è proprio il Neuromed di Pozzilli. La Stroke Unit dell'Istituto, si legge nell'articolo, è abilitata ad effettuare il trattamento trombolico dell'ICTUS ischemico. Una terapia che, se applicata entro le prime 4-5 ore dall'insorgenza del sintomo, può salvare il cervello da un evento che sarebbe catastrofico.